Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Tutti fatti per il giro? È una bella giornata questa. Sì, sì, bellissima, un'esperienza meravigliosa. È il giorno della Corsa Rosa a Pescara. La decima tappa del Giro d'Italia piace ai cittadini, i quali complici. Il caldo sono entusiasti di trascorrere una giornata all'insegna dello sport. È una bella esperienza per la città, comunque una bella giornata organizzata. Voi siete appassionati? Poco, però l'attività fisica è importante per tutti, ben venga. È una giornata di festa comunque? Sì, sì, parecchia festa, speriamo parecchi bambini in giro, parecchi ragazzi, anche perché qui dietro c'è il mare, quindi è bellissima Pescara. Tutti pazzi per il giro a Pescara? Sì, tutti quanti. Diciamo che aspettavamo questa tappa da un bel po' di tempo. Erano anni che non partivano, non passavano da qua. L'ultima volta, se non sbaglio, il 2013, l'arrivo sotto pioggia. Quindi sì, è un'attesa che durava da anni. Beh, è importante, è un bel giorno, è una festa per tutti. Il Giro d'Italia è grande, è una grande organizzazione, è bellissima.